Buon mestre, la notte sera per l'ambiente dei che tu vai a GdM Festival e dove mi metto un' persona che mi conosci Soni, Soni buon'oche Buon'oche qua vai, cosa vuoi? Contami, Soni di GdM Festival, che significa? Buon, questa è la vita di 4 anni che ho avuto da GdB Buon, ho avuto un tubo che è un tubo che è un tubo che è da Corsau Corsau di Cante qui è qui che mi ha detto di algo grande, algo grande La vita, chi è composta e chi è regla? Buon, normalmente ho lavorato con un grado di colina Ma ho avuto un'altra cosa, come a GdM Mi ha detto di parlare con Tarly e Elizabeth E' una buona, è una buona Ok, quindi hai già, come si è composta con il tubo? Si, dallo Dio che mi ha detto di qui Ok, qual è il nome del tubo? Il tubo è Corsau di Canta Ok, ora, ci siamo in un po' di chi è che cosa ci possiamo aspettare in il tubo? Il tubo è il messaggio Corsau di Canta Sì, quindi ci vogliamo vedere quelle sono le bonus questa versione? Ho messo un video da tecnica, ci vogliamo fare la versione. E mi piace fare unadata per la versione? Ci sono una versione. Ok, e questo è il di這麼 di 3... Noi ci vogliamo il DC, è una serie di componente su Thumba. Questo duro! Ci vogliamo vedere che è un'altra versione da versione. Alla prossimamente la versione! Abbiamo sentito più per la visione per me intervistare. però abbiamo un skit che è in una nuova sombra turco tinta on stoppable messe un cosque a passare